Sono onorato, sono molto contento di partecipare a questo ciclo, in particolare sono molto lieto di poter parlare a un pubblico di insegnanti, soprattutto delle scuole superiori, perché uno dei difetti della ricerca scientifica e particolarmente degli studi danteschi, perché Dante come vedremo è un autore di immediata portata nazionale che non va assolutamente limitato agli specialisti o agli addetti ai lavori, quindi è molto importante riuscire in qualche modo a parlare, a comunicare le novità e le principali acquisizioni che in questo campo veramente riguardano tutti. Come dicevo, vorrei fare un piccolo bilancio generale, naturalmente senza entrare in troppi dettagli, di quello che è stato il centenario dantesco che abbiamo appena attraversato, ricchissimo di iniziative, di risorse virtuali, molto più spesso che reali a causa del contesto pandemico, ma anche a causa della creazione, dello sviluppo di risorse digitali dedicate. Innanzitutto vorrei ricordare come il centenario dantesco abbia sempre costituito un momento di particolare importanza per l'identità culturale della nazione. Barsi pensare al centenario già del 1821 che in qualche modo è stato celebrato, cantato per esempio da Giacomo Leopardi con la canzone Sopra il monumento di Dante del 1818 che appunto si è preparato poi per il centenario del 21. Anche in questo caso Dante era un pretesto per rivolgere un appello accorato alla patria per riscuotersi dalla schiavitù, volgiti e ti vergogna e ti riscuoti, naturalmente, perché Dante e la sua opera, la sua stessa biografia rivestono una forte dimensione di identità nazionale, di qualche modo di carattere linguistico e culturale che riguarda tutti. Ricordo per esempio che a Verona il monumento dantesco che oggi è appena restaurato, domina la Piazza dei Signori, è stato realizzato e posto un anno prima dell'annessione del Veneto al nuovo regno d'Italia nel 1865, quindi un anno prima che il Veneto riuscisse, ci sono aneddoti molto particolari di come questo monumento fosse fino all'ultimo nascosto per non alterare la guardia e la sorveglianza degli austriaci. Ma in ogni caso, come dicevo, Dante è in qualche modo anche il nerbo della nostra lingua di oggi. Noi abbiamo, e spesso non ce ne rendiamo conto, un grande privilegio rispetto ad altre lingue di cultura dell'Europa contemporanea e particolarmente il fatto che possiamo accostarci alla lingua originale del poema dantesco senza la mediazione di alcun ammodernamento, forse soltanto qualche accorgimento grafico, ma sostanzialmente possiamo leggere, terzine come questa, taciti soli, senza compagnia, nandavam l'un dinanzi e l'altro dopo, come frati minor vanno per via. Oggi non diremmo molto diversamente queste cose, no? Anche quando Dante usa qualcuno dei suoi famosi neologismi, sono talmente intuitivi e immediati che immediatamente entriamo, come dire, nell'atmosfera e nel contesto che ci viene narrato. Così per entro loro schiera bruna si ammusano, quasi annusano e si strusciano col muso l'una con l'altra formica, forse a spiar loro via e loro fortuna. Ecco, non esistono altre lingue europee che permettano una tale continuità fra i capolavori medievali e quanto possiamo leggere oggi. Forse naturalmente è proprio l'origine scritta letteraria della nostra lingua che ha salvaguardato questa continuità. Quel che è certo è che gli inglesi invece leggono le opere di Shakespeare, per esempio, pur di tre secoli successivi, in versione notevolmente modernata e lo stesso fanno gli spagnoli con il Chierote di Cervantes, la cui prima edizione è uscita nel 1305 e quindi di nuovo tre secoli dopo la commedia. Ma non basta, non è solo una continuità letteraria che ci lega a Dante. È una continuità con la nostra lingua quotidiana direi quasi colloquiale. Noi anche spesso, senza rendersene conto, usiamo modi di dire stereotipi che sono tratti di peso dalla commedia, per esempio di una coppia di amici che si sposa beh, Galeotto fu la vacanza in Grecia perché magari si conobbero lì. Ecco, e naturalmente questo rinvia al famoso incipit, Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, oppure quando diciamo questa accusa non mi tange, no? Non è solo un latinismo, è un riferimento al canto secondo, la vostra miseria non mi tange. O magari andiamo allo stadio, vediamo 1-0-0, una partita senza infamia e senza lode, che sono appunto gli ignavi del canto terzo, che visse senza infamia e senza lode. Nello stesso canto troviamo Celestino V che per viltà defese il grande fiuto e noi molto spesso oggi usiamo questa espressione, un politico che fa il grande fiuto o roba del genere, naturalmente. Per non parlare poi del classico modo di indicare l'Italia, il bel paese, no? Il bel paese, magari in un senso anche ironico, deriva dall'ultimo canto dell'inferno, il bel paese là dove si suona e naturalmente potremmo andare avanti per molto tempo a fare esempi di questo genere. Ma naturalmente questo è anche, come dire, un'insidia, perché un'opera così citabile, così memorabile, naturalmente molto spesso viene spezzettata, viene parcellizzata e l'accesso digitale non fa altro che aggravare questa perdita di unità. Chi legge ormai la commedia come un testo narrativo, cioè come doveva essere letto secondo le intenzioni dell'autore, no? Il testo ormai è scaricabile, interrogabile, restituisce immediatamente una citazione che stiamo cercando e quindi si tende a farvi riferimento seguendo direttrici estemporanei, magari appunto cercando un tema, cercando una citazione, cercando un personaggio. Tutto questo ci allontana inevitabilmente dalla lettura continua, dalla sequenza degli episodi e dei canti come appunto è stata così straordinariamente escocitata dal poeta. E non c'è dubbio che i passi così decontestualizzati si prestano notevolmente equivoci, monopolazioni, fraintendimenti molto spesso. Quel che è certo è che oggi abbiamo molti archivi e database che ci aiutano a trovare, a immediatamente selezionare tutte le cose che ci interessano, dei vari versi del poema e dei relativi commenti. Ad esempio il Dartmoor Dante Project, che citeremo ancora perché partner del nostro progetto Pisano, ci permette di recuperare istantaneamente, secondo il verso, secondo la terzina che ci interessa, tutti i commenti antichi e moderni che hanno in qualche modo cercato di chiarirne la lettera. E questo naturalmente è uno strumento di straordinaria ricchezza e d'utilità. Ancora abbiamo dei, qui sto citando, diciamo dei siti che poi sono nel vostro elenco e che quindi potete approfondire, potete andare a vedere e magari riferirne nel tempo che ci viene dato, perché appunto sono risorse che rendono estremamente facilitata e in qualche modo anche vivacizzata la nostra lettura del poema. Ad esempio il Dante Lab Reader, sempre allestito dal Dartmoor, ci permette con la sua visualizzazione split screen tipica del linguaggio con cui vengono formulati questi siti web, linguaggio HTML. Prima dicevo che queste sigle noi le usiamo molto spesso, no? HTTP in cima a tutti i nostri indirizzi, no? Hypertext Transfer Protocol, oppure in questo caso Hypertext Markup Language. E sono tutti modi di condividere e trasferire file, pagine sul web. Il Dante Lab Reader naturalmente ci permette di giustapporre in modo personalizzato, ad esempio un passo della commedia come vediamo qua sulla sinistra, la relativa traduzione inglese in questo caso si può scegliere, questa è quella classica di Longfellow ottocentesca e il commento appunto, in questo caso sempre inglese, il grande dentista Robert Hollander scomparso da pochi anni, che ci permette quindi di trovare la combinazione più idonea per chiarire la lettura di un passo. Ma come dire, la panoramica di siti web che vi ho elencato nel file che vi è stato distribuito, va anche oltre la dimensione strettamente della lettura, la strettamente interpretativa. Ad esempio il Bowdoin College, sempre americano, ha allestito un sito che si chiama Dante Today, che con un gioco di parole viene sottotitolato Citings and Citings, citazioni e visualizzazioni delle opere di Dante nella cultura contemporanea. È un sito di grande importanza per visualizzare le mille forme in cui Dante è penetrato nella cultura pop, fino a una dimensione che il mio amico Giuseppe Sangiraldi, il professore Annansi, ha chiamato la gadgetizzazione di Dante, cioè il modo in cui il testo ma anche la biografia e lo stesso iconico profilo del poeta sono entrati negli oggetti quotidiani e quindi le calze, le tazze, oppure magari certe immagini sono entrate nelle lyrics di qualche band, soprattutto heavy metal, o addirittura, come nel caso di questo fortunatissimo gioco per la PlayStation 3, Dante's Inferno, entrano addirittura nei videogiochi e questo videogioco è tra l'altro un vertiginoso stupidario storico perché Dante è un crociato, scende all'inferno per, pensate un po' assolvere le anime, come se le anime dell'inferno potessero essere assolte e così via. Anche questo comunque è fortuna di Dante, come vediamo appunto nelle terzine della commedia riportate sulle calze da donna naturalmente. Questo archivio del Dante Today elenca queste centinaia e centinaia di occorrenze dantesche della nostra quotidianità, nelle varie categorie, naturalmente dalle arte visive all'oggettistica di tipo anche estremamente pop, addirittura alla presenza di molti murales, c'è addirittura una scritta spray su una strada del New Jersey in cui appunto in un traballante latino e inglese viene parafrasato il celebre inizio del canto terzo dell'inferno, per me si va nella città dolente, lasciate ogni speranza a voi che entrare. Ecco questo avvio viene un po' diciamo stravolto in questo spray sull'asfalto come anche, lo sappiamo benissimo, in molti murales che compaiono in quartieri degradati delle nostre periferie. naturalmente all'estremo opposto di questo spettro diciamo di fortuna varia dantesca di risorse digitali che ci aiutano a navigarne il frastagliato profilo c'è l'edizione digitale della commedia realizzata nel 2010 da Peter Robinson e Prusho, una risorsa di altissimo livello scientifico, non l'ho inclusa nei vostri riferimenti perché è effettivamente troppo tecnica, presuppone una conoscenza dei manoscritti di partenza da cui ha costituito il testo della commedia, in particolare dai sette manoscritti che vengono utilizzati da Federico Sanguinetti nella sua ultima edizione critica del 2001 come fondamentali, quindi queste sigle esoteriche, misteriose, TRIV, MART, URB, ASH eccetera eccetera. Naturalmente non ci serve approfondire questa cosa ma voglio ugualmente dirvene qualcosa perché anche questa edizione sfrutta in maniera mirabile la tecnologia split screen a cui facevo riferimento poc'anzi permettendo quindi di giustapporre per esempio immagini ad alta risoluzione dei manoscritti con trascrizioni e via dicendo. In particolare le trascrizioni sono fatte con una notevolissima diciamo tecnica di scioglimento che permette come diciamo vedremo fra un attimo di separare quelli che sono i segni visualizzati sul codice che quindi possono essere anche ricontrollati dalla immagine ad alta risoluzione che accompagna queste trascrizioni da quello che è l'interpretazione di quei segni e quindi lo scioglimento delle abbreviazioni, la correzione di errori di copista, l'interpretazione di cancellature che spesso sono visibili sui codici e come vedete in questo esempio per esempio nel primo canto dell'inferno i raggi del pianeta, ci ricordiamo anche da memorie scolastiche, i raggi del sole, i raggi del pianeta ecco in alcuni codici i raggi di pianeta e come vedete qua non so se si apprezza ma sopra qualcuno ha corretto del pianeta. Chi è lo stesso copista? Qualcuno più tardo? Un revisore? Ecco naturalmente non è facile rispondere a queste domande allora è importante che nelle trascrizioni quello che si legge sulla pagina sia sempre ben distinto dall'interpretazione che ne possiamo dare alla luce di altre considerazioni, il senso, il passo, il contesto e via dicendo. La cosa interessante di questa edizione è che costituisce come abbiamo accennato una puntuale verifica dell'edizione critica diciamo più recente, quella di Federico Sanguinetti, costituisce uno strumento per verificarne passo passo la validità ma non offre un nuovo testo critico e quindi in qualche modo non si mette sullo stesso piano delle edizioni critiche che sono state via via proposte. Adesso ce n'è un'altra appena uscita presso la società dantesca italiana ad opera del filologo della sapienza Giorgio Inglesi. Questo sistema innovativo di trascrizione permette naturalmente di poter utilizzare al meglio tutte le immagini ad alta risoluzione che vengono fornite sia nell'edizione critica stessa sia nel sito web della società dantesca in associazione alla quale questa edizione digitale è stata realizzata. Nel sito web Dante Online della dantesca potete sicuramente consultare se volete raccogli immagini e trascrizioni meno innovative, più diciamo così diplomatiche, quindi più fedeli, più tradizionali dei principali manoscritti della commedia, non solo i sette presi in considerazione dall'edizione digitale Robinson Show, ma anche molti molti altri. Questa è una schermata che vi può in qualche modo esemplificare come funziona e come e cosa porta questa straordinaria risorsa di edizione digitale. Ora, dal novembre scorso, prima era pagamento e previa autenticazione, adesso è totalmente in open access, quindi non ve l'ho messa perché è molto complicata, ma è sicuramente un grande acquisto per la possibilità che abbiamo di verificare le edizioni attuali e di risalire alle fonti dalle quali il testo corrente, quello che leggiamo, tradizionalmente viene citato e letto. naturalmente la tecnologia HTML split screen di cui parlavo all'inizio qua serve a poter distrapporre, come ben vedete, a sinistra l'immagine ad alta risoluzione di un determinato punto del manoscritto, a destra la trascrizione con le regole, con i criteri di cui ho parlato prima, in basso le varianti che vengono appunto offerte da altri manoscritti, quelle particolarmente utili, diciamo così, alla chiarificazione di un determinato passo e del suo relativo contesto. Ecco, di questa edizione si potrebbe ripetere la definizione data dalla mia cara amica e compagna di studi, Elena Pierazzo, di edizione digital documentary, cioè document based, basata sui documenti, basata sulla archiviazione e sul richiamo di immagini e trascrizioni che forniscono direttamente, diciamo, la fonte da cui il testo è costituito. naturalmente vi risparmio la parte più esoterica di questa edizione che è la parte cosiddetta filogenetica, la parte cioè con cui la statistica, la distribuzione delle varianti fra i vari manoscritti viene interpretata in chiave statistica e la collocazione dei vari manoscritti viene interpretata alla luce della distanza, come vedete da questo grafico, da un centro che è costituito, guardate bene, dalla media statistica della lezione dei vari manoscritti, cioè dalla parte condivisa dei vari manoscritti, ovviamente con il presupposto piuttosto pericoloso e fallace che il consensus codicum, si dice, cioè la convergenza di un alto numero di manoscritti rappresenti la lezione giusta. È evidente che basta una modestissima conoscenza degli assiomi della filologia per capire che non è così, che molto spesso certe congetture facili o certe banalizzazioni possono diffondersi così profondamente nella tradizione da diventare loro molto più frequenti della lezione che alla luce di un esame approfondito si può considerare la più corretta. Naturalmente ecco questo particolare campo di applicazione della filologia digitale che è appunto la filogenetica o cladistica viene chiamato che si basa sull'analogia con la interpretazione delle differenziazioni progressive del genoma di specie vegetali, vegetali non animali e che però con queste ha una differenza vistessissima, cioè è chiaro che una specie vegetale ha una sequenza genetica che può essere più o meno comune con un'altra e quella relativa comunanza ne definisce la prossimità e questo non c'è dubbio. Invece nel caso dei testi naturalmente la comunanza di lezione non prova niente perché naturalmente la comunanza appunto può essere indotta da mille ragioni e non è assolutamente prova della originalità e autenticità della lezione. Quello che interessa a noi per oggi e qui comincio a preparare come dire la seconda parte del nostro incontro è il fatto che sulla base del testo, come il testo viene ricostruito, si basa la nostra ricerca. Noi ricerchiamo parole, frasi, citazioni, stringhe di testo in varie combinazioni secondo naturalmente il modo in cui il testo in questione è stato ricostruito. Io per esempio ho scritto come dire tre articoli, ahimè, non su un verso della commedia ma su mezzo verso della commedia che è il famoso verso 57 del canto ventiquattresimo del Purgatorio che dice di qua dal dolce stil nuovo chiodo. Ecco alla luce delle recenti acquisizioni della filologia pare che quel verso si debba leggere di qua dal dolce stil e lì mettiamo una virgola noi moderni. Il nuovo chiodo. Allora non è più che iodo ma è chiodo. Effettivamente come molti commenti trecenteschi interpretavano. Clavum, no? Clavum velut retinaculum dicevano, no? E perché chiodo? E soprattutto perché nuovo? Perché scaccia il vecchio, no? Così come il nuovo stile dantesco di Dante e della sua entourage scaccia la vecchia maniera poetica di Mona Giunta che è quello che parla nel canto ventiquattresimo del Purgatorio e di altri poeti, diciamo così, attardati, no? Ecco che per esempio una ricerca sulle occorrenze della parola chiodo nella commedia evidentemente non troverà questo luogo del testo per il buon motivo che questa sequenza di grafemi che ovviamente nei manoscritti antichi è scritta tutta insieme viene nel 99 per cento delle edizioni suddivisa appunto chi apostrofo io i apostrofo odo che io odo mentre ci sono argomenti ora qui si potrebbe parlare all'infinito sono argomenti che invece valgono a almeno ipotizzare che qui si tratti proprio di un chiodo, no? Comunque al di là di tutte queste problematiche che derivano appunto dal modo in cui il testo viene restituito, ricostruito modernamente, dobbiamo anche pensare che queste parole chiave presenti o meno nel testo vengono combinate nelle nostre ricerche attraverso i cosiddetti operatori booleani, no? Cioè and che trova la parola A e la parola B or la parola A oppure la parola B not cioè la parola A ma non la parola B eccetera eccetera e questi operatori sono parte della cosiddetta algebra di Bohm, un geniale reticolo logico che ammette la coppia minima di presenza-assenza 01 che è alla base di tutte le nostre ricerche di tipo tradizionale, per esempio le ricerche nei cataloghi delle biblioteche. Questo straordinario matematico irlandese di metà ottocente George Bull è stato assolutamente come dire rivoluzionario nel scogitare questo strumento ma siamo sicuri che questo sia il modo di fare ricerca in ambito umanistico. Ecco, nella seconda parte della mia lezione intendo illustrare in qualche modo come possa esistere un altro modo di svolgere una ricerca, di istruire i motori di ricerca a trovare risorse anche senza alcuna coincidenza verbale, senza i famosi operatori ma in modo, come si dice, semantico cioè analizzando in modo automatico i rapporti logici fra gli oggetti descritti. Si tratta, questo già come dire è riconosciuto in ambito informatico da molto tempo, di un vero e proprio salto di qualità. Il web semantico che è stato in qualche modo preannunciato da uno dei fondatori del World Wide Web, cioè Tim Berners-Lee, già nel 2003, si basa non su parole, sequenze di lettere e stringhe di testo, ma si basa su asserzioni univoche fra oggetti rigidamente determinati e riesce quindi ad esprimere relazioni fra questi oggetti, fra queste risorse, in un modo che è trasparente, che è leggibile per la macchina, oltre che per l'uomo. Infatti le relazioni fra risorse sono descritte in termini di quello che in linguaggio informatico si chiama ontologia web, cioè all'interno di uno specifico dominio di conoscenza, le ontologie, come vedremo appunto nella seconda parte, permettono una descrizione formale dei concetti articolata per classi, interventi, relazioni e regole che sono, diciamo, accertate fra oggetti, come dicevo, rigidamente e univocamente determinati e possono quindi essere lette e interpretate da motori di ricerca in chiave automatica, permettendo un'amplificazione infinita, diciamo così, della ricerca e un azzeramento di quel fastidioso rumore di sottofondo che caratterizza, lo sappiamo benissimo, tutte le nostre ricerche di tipo tradizionali. Come possiamo definire queste ontologie? Come appunto uno schema di rapporti fra oggetti del web, no? Oggetti, come dicevo prima, chiaramente e univocamente definiti attraverso, per esempio, degli indirizzi web, quelli che si chiamano URI, Universal Resource Identifier, no? E queste ontologie esprimono rapporti logici di inferenza fra oggetti che possono essere interpretati con uno schema di questo tipo, no? Per esempio, ecco, il sito valeri.de, creato da valeri, no? Quindi legato a valeri dal rapporto di creazione, as creator, che produce, che cos'è? Un sito web e quindi è una sottoclasse di un documento, no? Un documento può essere un sito web, può essere un file pdf e via dicendo, no? Ora, ho banalizzato naturalmente questo schema, però possiamo già, come dire, tenere conto del fatto che le ontologie web sono considerate oggi il mezzo più efficace e produttivo per immagazzinare conoscenze scientifiche affidabili su testi letterali e in ambito appunto generalmente umanistico. Un'ontologia web si può descrivere anche come una tripla semantica o anche solo tripla, che è l'elemento cardine dello schema di descrizione cosiddetto RDF, Resource Description Framework. Cioè un insieme di tre entità che rappresentano una dichiarazione sui dati che contengono, no? Quindi per esempio il soggetto, l'oggetto e il predicato, che in qualche modo sono legati da un rapporto logico-inferenziale che noi riusciamo attraverso questa tripla a esprimere. Vedremo nella seconda parte del nostro incontro che questi rapporti complessi appunto che vengono illustrati dalle ontologie web sono stati utilizzati per rappresentare fenomeni di intertestualità e di interdiscursività proprie letterarie. Quindi realizzando delle triple fra il testo, l'antesco di partenza, la fonte da cui il testo è stato appunto tratto e il commentatore che ha stabilito il rapporto fra i primi due elementi. Se prendiamo un altro sito piuttosto complicato che non vi ho messo nell'elenco che ho dato, però il sito d'antesorso è realizzato dall'Università di Pisa e dal CNR di Pisa rappresenta proprio una biblioteca digitale basata sul linguaggio RDF che quindi consente agli studiosi di visualizzare dati relativi alle fonti citate da Dante nelle opere minori, perché Dante Sorces non riguarda la commenta, visualizzare dati riguardanti gli autori citati da Dante, visualizzare, come vedremo attraverso grafici, le aree tematiche a cui queste fonti appartengono, contestualizzare quindi la distribuzione dei dati di fonti citate da Dante, autori, opere all'interno del contesto culturale e scientifico del tempo dell'epoca di Dante. Prendiamo per esempio la presenza di un autore come Alberto Magno e voi vedete già un grafico piuttosto significativo, perché troviamo poche citazioni nelle opere minori di Dante, 5 e 7 a seconda dei commenti nella Vita Nova, 5 nel De vulgari eloquenzia, due sole nella monarchia e 12 nelle rim, ma ben 101 naturalmente nel convivio in cui Alberto Magno è una delle autorità test più importanti e quindi ecco come si dice, no? Un'immagine vale più di mille parole, ecco come in qualche modo attraverso un numero elevato di grafi di questo tipo si può fornire una rappresentazione efficace e eloquente della cultura del mosaico, diciamo così, delle opere dantesche. Cosa vuol dire lavorare su una base di conoscenza come appunto il Dante Source e come anche il progetto di cui vi parlerò? Vuol dire a progettare ontologie dedicate, quindi codificare i rapporti tra i vari soggetti e realizzare un idoneo search engine, un motore di ricerca semantico che sia in grado di navigare e di quindi rispondere alle nostre interrogazioni analizzando la combinazione di parole chiave, analizzando i rapporti logici inferenziali fra gli oggetti descritti senza più necessità di un'esatta coincidenza fra le parole chiave come appunto nel tipo tradizionale di ricerca testuale. La digital library di cui vi parlerò appunto è una base di conoscenza basata sugli standard web semantico che ha lo scopo di costituire un ambiente collaborativo per il commento del poema dantesco con attenzione alle questioni di lingua, stile e appunto intersexualità. Vorrei appunto introdurre un progetto della famiglia del web semantico che ho introdotto nella prima parte con cui stiamo cercando di mappare con i linguaggi del web semantico, quindi in particolare con RDF, Resource Description Framework, cerchiamo di mappare gli autores, i testi particolarmente importanti per comprendere diciamo il tessuto della commedia. La conoscenza espressa dalla commedia sì ma anche in particolare interpretata dai secoli di commenti antichi e moderni che hanno elaborato questa conoscenza. Questo progetto che è finanziato nell'ambito del PRIN 2017 che è un classico esempio di progetto di ricerca italiano perché intanto il PRIN 2017 scadeva nel 2018, poi è stato giudicato e valutato nel 2019 sono usciti i risultati, alcuni ricorsi hanno bloccato per diversi mesi l'avvio del progetto e di conseguenza la vera partenza è stata a fine gennaio 2020. Poi c'è stata la pandemia e naturalmente per condire con l'ultima ciliegina lo scorso agosto a causa di un ennesimo ricorso è stato nuovamente bloccato e ancora diciamo è soggetto a una rivalutazione che dovrebbe concludersi in questi giorni. Questo fa capire come si cerca di mandare avanti la ricerca nel nostro paese, si fa una fatica estrema e più che magari i responsabili che sono strutturati la fatica la fanno i poveri giovani ricercatori che magari al progetto devono gli assegni, i contratti di collaborazione che permettono di vivere e di lavorare. Chiusa questa triste parentesi vorrei illustrare il progetto Hypermedia Dante Network che si presenta come una naturale prescrizione di Dante Sources. Come vi ho detto nella prima parte Dante Sources si occupa di questioni di lingua, stile, intertestualità nelle opere minori di Dante. Nel caso della commedia naturalmente Hypermedia Dante Network cerca di affrontare gli stessi argomenti che però ovviamente sono amplificati, riverberati dal secolare commento, appunto dalla tradizione di commenti antichi e moderni che si sono stratificati appunto sui vari canti. Naturalmente occorre fare una premessa che se già il web semantico è un modo per razionalizzare attraverso metodi di estrazione automatica il numero impressionante, esorbitante di informazioni e dati presenti sul web tradizionale cercando almeno di leggere, mappare quelli espressi in formati standard o compatibili come per esempio l'XML, XSensible Mark Language o l'HTML che citavamo prima, nel caso di Dante questa necessità di razionalizzare è particolarmente urgente, non solo perché la bibliografia di Dante si accresce in numero che è stato calcolato attraverso le bibliografie diciamo standard sulla filologia, sugli studi danteschi, in numero di circa 1500-1800 nuovi titoli l'anno, ma anche perché lo abbiamo visto dai vari siti web esplorati nella prima parte, è imperativo avere un approccio interdisciplinare ipermediale nel senso usato nell'ultimo libro di Jerome Gunn appunto quindi di mettere in relazione i testi con i loro contesti diciamo ideologici, scientifici, storici e naturalmente tutto questo può essere fatto solo attraverso un'estrazione semiautomatica di contenuti, un'analisi, una mappatura come dicevo governata dalla descrizione semantica e quindi dalla diciamo dall'inserimento di dati espressi come ho cercato di spiegare nella prima parte. Naturalmente questo tipo di ricerca non può essere una ricerca verbale, lo abbiamo visto nella prima parte, far dipendere le nostre ricerche dalla dimensione testuale, cioè dalle stringhe di testo e dagli operatori booleani vuol dire esporsi a un numero esorbitante di risultati non pertinenti delle ricerche vuol dire non affrontare nelle nostre ricerche una dimensione concettuale, una dimensione semantica che invece è fondamentale per questioni quali quelle che venivano poste nella prima parte, cioè le teorie astronomiche, le dottrine teologiche, filosofiche e via dicendo, che naturalmente possono essere espresse solo in termini appunto di semantica. In altre parole una ricerca moderna, una ricerca fondata sugli standard web semantico deve andare oltre questa dimensione rigidamente testuale e questa algebra booleana a cui facevo riferimento nella prima parte e che ammette solo coppie minime appunto di presenza senza, di 0-1 e diciamo di altre coppie che formano la grammatica ecco della nostra ricerca tradizionale a cui siamo ormai talmente abituati da non fare neanche più caso al fatto che nelle nostre ricerche spesso appunto un risultato pertinente ne porta con sé altri 20-30 poco o nulla rilevanti per la nostra ricerca. Per non parlare poi dei casi di omonimia io in un recente libro ho citato il caso di Achille Lauro che ora poi che c'è Sanremo è particolarmente diciamo attuale, se uno volesse fare una ricerca sull'Achille Lauro armatore napoletano sindaco di Napoli due volte fondatore di partiti di simpatie destrorse e morto diciamo quasi novantenne all'inizio degli anni 80 dovrebbe arrivare al quarto risultato della settima pagina di Google perché naturalmente tutti i risultati precedenti sono occupati dal rapper che abbiamo ammirato ahimè anche in questi giorni e che non si chiama affatto Achille Lauro, nome ad arte perché si chiama Laura De Marinis naturalmente e oltretutto diciamo questo questa difficoltà si accompagna a una caratteristica delle ricerche web in generale cioè che non vengono dati i risultati più rilevanti o più affidabili tutt'altro ma vengono dati i risultati che più utenti hanno considerato utili quindi chiaramente per ogni utente che cerca l'Achille Lauro armatore napoletano ce ne sarà un milione che cerca il rapper romano e questo naturalmente può essere applicato a tanti tantissimi altri casi il web semantico cerca di dare risposte a questo si tratta di trasformare il worldwide web attuale che già è strabordante di informazioni di dati di risorse in un ambiente in cui i documenti pubblicati i dati le pagine web i file siano associati descritti da informazioni che tecnicamente si chiamano metadati che ne specifichino il valore quindi il contesto il significato le relazioni in un formato come abbiamo visto prima adatto all'interrogazione cioè che possa fornire risposte chiare e immediate ai motori di ricerca ai linguaggi di interrogazione in inglese query languages come per esempio Sparkle qualcuno avrà sentito parlare forse di Sparkle che sono linguaggi di interrogazione automatica che sono in grado di interrogare grandi basi di dati attraverso appunto oggetti relazioni che sfruttano vari legami inferenziali e quindi possono diciamo ripercuotere possono amplificare la nostra query la nostra domanda la nostra ricerca anche molto al di là delle dimensioni attese quindi rivelare autenticamente degli aspetti delle conseguenze delle diciamo così risonanze che non sospettavamo e questo è effettivamente l'anima della ricerca in ambito umanistico andare dal noto verso l'ignoto questi oggetti che troviamo sul web univocamente definiti come abbiamo detto tramite una universal resource identifier vengono appunto poi collegati attraverso queste ontologie e quindi vengono esplicitati i rapporti logici di inferenza che intercorrono fra essi abbiamo detto appunto della semantic triple che appunto rappresenta attraverso l'oggetto a l'oggetto b e il rapporto c che intercorre fra di esse abbiamo detto come questa tripla semantica possa efficacemente rappresentare un rapporto logico inferenziale premesse e conclusioni che la macchina riesce a interpretare ed applicare a tutti i contesti in cui questi rapporti questa tipologia di rapporti intercorra in dante sources e in hypermedia dante network questo tipo di rapporti è stato applicato con successo a quanto pare alle varie forme di intertestualità di interdiscursività di derivazione che esistono fra i vari passi della commedia i commenti che ne esplicitano le forme le fonti le ascendenze e i classici gli autores da cui questi elementi sono a parere dei commentatori si intende tratti come vi dicevo prima i linguaggi utilizzati a questo scopo sono della famiglia rdf resource description framework e in particolare in dante sources e in hypermedia dante network si usa un linguaggio che si chiama aol 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 in inglese vuol dire gufo ma in questo caso è un acronimo per dire ontology web language che serve a descrivere gli oggetti in questa base di conoscenze e effettuare deduzioni su questi vari oggetti e integrarli con i vari contenuti con i link presenti nelle risorse web che sono appunto collegati attraverso all in generale attraverso gli standard web semantica possibile effettuare ricerche che superino come abbiamo detto prima gli effetti di omonomia e di ambiguità che vengono a inficiare i risultati delle nostre solite tradizionali ricerche web basate sul testo e svolgere applicazioni che effettuino deduzioni sui dati che abbiamo immagazzinato quindi attraverso come dicevo delle interrogazioni anche automatiche semi automatiche che mettono in relazione tutti questi vari oggetti scusate il dante sorsi come abbiamo visto è una biblioteca digitale che dalle opere minori di dante permette di trarre queste diciamo particolari conseguenze quindi la visualizzazione le aree tematiche gli autori testi citati o allusi da dante nelle opere minori in particolare appunto abbiamo visto prima e anche grazie a un contributo dal pubblico i grafi rdf rdf graphs si chiamano con cui uno visualizza la presenza di autori di testi nelle varie opere cosa vuol fare hyper media dante network una cosa molto simile perché appunto si tratta di costituire una knowledge base una base di conoscenza una biblioteca digitale che riesca in qualche modo a raccogliere i commenti per adesso sono 51 speriamo di arrivare oltre oltre antichi e moderni sulla commedia e a mappare la conoscenza che questi commenti esprimono in relazione ai vari canti della commedia si tratta di un knowledge base basato su dante sources ma adattato con ontologie particolari ovviamente sviluppate in modo dedicato con un motore di ricerca che analizza in particolare sia le parole chiave di un documento sia ovviamente le particolari caratteristiche diciamo dell'oggetto descritto senza la necessità come dicevamo prima di una coincidenza esatta di parole chiave quindi analizza diciamo così la presenza di concetti oltre che di parole ovviamente anche le parole chiave sono considerate ma non sono strettamente necessarie non sono diciamo l'unico elemento su cui la query è basata Hypermedia Dante Network si basa su di standard web semantico e ha lo scopo come Dante Sources ha fatto per le opere minori di costituire un ambiente collaborativo per il commento alle commedia Hypermedia HDN si propone di riunire la conoscenze sulle fonti dantesche che si trova naturalmente sparpagliata nelle decine e decine di commenti antichi e moderni al poema dantesco la base testuale su cui opera HDN è quella dei commenti digitalizzati dal Dartmouth Dante Project cioè una settantina dei quali per adesso HDN sta utilizzando 51 per motivi di diritti d'autore quindi si spera che anche per i rimanenti si possa presto arrivare a uno sblocco insomma ma naturalmente è già molto complicato ed è lungo annotare quindi appunto sfilettare mi viene da dire ecco la conoscenza costituita da questi 51 commenti per introdurre nella base dati HDN tutti i dati riferimenti che vengono appunto citati ricordati da questi commenti obiettivo principale di HDN è porre diciamo dotare questa biblioteca virtuale di una facile intuitiva interfaccia web che renda questo patrimonio consultabile non solo agli utenti specializzati ma anche assolutamente agli utenti generali ci sono tre categorie previste di utenza dall'utente generale all'utente specializzato al collaboratore che oltre a utilizzare contribuisce allo sviluppo della base di conoscenza ma non c'è dubbio che questi tre livelli rendono HDN molto idoneo ad essere adottato a essere sfruttato anche in ambito didattico il cuore dell'ontologia progettata per HDN è il riferimento cerchiamo di vedere cosa vuol dire il riferimento è la classe che sta al centro appunto del della base dati hypermedia dante network come possiamo definire un riferimento un riferimento può essere definito nel modo seguente il testo A cioè la sorgente del riferimento il commento dantesco prendiamo Jacopo della lana o l'ottimo commento dice che la conoscenza sul testo B brano della commedia una terzina due terzine detto soggetto del riferimento si può arricchire grazie al testo C cioè l'autor il classico la fonte biblica citata o all'uso da tante che è detta oggetto del riferimento vedete la tripla semantica come si articola no si articola appunto fra sorgente quindi testo ovviamente da cui riferimento prende origine soggetto e oggetto questo riferimento può essere esemplificato con una delle prime terzine del poema dantesco e cioè quella in cui Virgilio si manifesta e si presenta a Dante Inferno 1.3.75 poeta fui e cantai di quel giusto figliuolo d'anchise che avvenne di Troia poi che il superbo Elion fu composto l'anonimo fiorentino appunto la sorgente del nostro riferimento come ce ne sono tante altre dice in proposito qui si manifesta a Virgilio all'autore e dice che di fu poeta e che fece versi di Nea il quale venne di Troia e fu figliuolo d'anchise e di Venere chiama lo giusto perseguitare Virgilio quindi è una citazione in ogni sua opera onde Virgilio nel primo dell'Eneida ecco che l'anonimo fiorentino ha istituito una relazione diretta una relazione di citazione quasi comunque di concordanza molto molto precisa fra non solo fra Dante e Virgilio ma fra questa terzina di Dante e questi due esametri del primo libro dell'Eneida quindi possiamo nel linguaggio della tripla semantica di H.D.N. possiamo dire l'anonimo fiorentino sorgente del riferimento dice che la conoscenza su inferno 1.3.75 soggetto del riferimento si può arricchire grazie a Eneide 1.544.545 oggetto del riferimento ecco la tripla semantica declinata nel senso che interessa al nome ovviamente il riferimento può poi avere vari tipi in cui appunto lo si può esprimere i principali sono tre il supporto esterno cioè il commentatore menziona un testo classico biblico per supportare una propria interpretazione del passo dantesco un luogo parallelo il commentatore menziona un testo in cui un concetto o uno stilema o un personaggio manifestano delle somiglianze con il testo dantesco senza che questo implichi una volontaria citazione o una diretta derivazione o infine una citazione il commentatore ritiene che dante stia alludendo o citando precisamente un testo queste citazioni di ultimo possono a loro volta essere di tre tipi perché ovviamente stabilire un legame cogente del testo di dante con una citazione con un autore può essere espressione di tre almeno tipi di derivazione cioè una citazione esplicita cioè il commentatore ritiene che dante cita in maniera esplicita una fonte e succede molto spesso in dante pensiamo all'inizio del convivio in cui dante dice lo filosofo nel primo eccetera il filosofo è aristotele chiaramente lì c'è una situazione esplicita e dichiarata da parte di dante oppure se vogliamo nell'inferno taccia di cadmo ed aretuso video lì c'è un preciso riferimento alle metamorfosi e via dicendo oppure citazioni stringenti cioè il commentatore individua una situazione che non è dichiarata ma è piuttosto chiara e riconducibile in modo univoco a un preciso brano ponte o infine può essere una concordanza generica cioè il commentatore individua un concetto che si trova genericamente alla base di un brano dantesco ma senza che sia necessario che dante abbia in qualche modo tratto il concetto da quell'autore a sua volta poi il riferimento a dei contenuti anche i contenuti possono essere diciamo descritti mappati in modo diverso i riferimenti più specifici a luoghi paralleli e accettazioni naturalmente possono essere valutati in base al loro contenuto perché naturalmente il passo dantesco può essere assimilabile può essere considerato derivato dipendente con un determinato testo fonte in relazione a qualcosa un fatto, un personaggio, un episodio quindi nell'ontologia di HDN abbiamo individuato sette principali contenuti che sono suddivisi in tre tipi di corrispondenze intanto abbiamo le corrispondenze testuali dove appunto la corrispondenza è legata proprio alla espressione in cui viene formulata un determinato dato quindi possiamo avere immagini consonanti possiamo avere stilemi da un punto di vista retorico o stilistico o possiamo avere appunto scusate possiamo avere poi corrispondenze di tipo tematico e quindi per esempio possiamo avere personaggi che ritornano pensiamo all'indovina manto che compare due volte nel poema dantesco possiamo avere episodi via dicendo possiamo avere appunto che so io appunto il riferimento a determinati brani per esempio della Tebaide di Stazio l'episodio dei serpenti per esempio nel sabbione infuocato di Inferno 25 via dicendo possiamo avere infine la corrispondenza con dei luoghi abbiamo visto prima il sito The World of Dante e la presenza di mappe interattive che spiegano la cosmografia la conformazione dell'inferno eccetera e quindi naturalmente questi contenuti di tipo geografico topografico cosmografico possono essere considerati dal punto di vista dell'ontologia delle corrispondenze appunto tematiche poi abbiamo delle corrispondenze più sfumate che sono di tipo concettuale possono essere dei motivi abbiamo citato prima delle teorie possiamo dire naturalmente ecco che Dante rispecchia ad esempio una concezione astronomica geografica che veniva per esempio ricollegata a San Tommaso ma che era corrente al suo tempo e quindi non era necessario citare San Tommaso o Alberto Magno per esprimere quella determinata teoria perché naturalmente all'epoca quella teoria era diffusa e costituiva un patrimonio condiviso che noi possiamo ricostruire da varie fonti ma che in qualche modo non può diciamo configurare più che una consonanza interdiscorsiva no? quindi non una citazione non un riferimento esplicito la cosa più interessante diciamo ovviamente che ci dicono i commenti è che tipo di rapporto c'è fra il testo soggetto quindi appunto il testo dantesco e la sua fonte il testo oggetto nelle citazioni e nei luoghi paralleli il commentatore riconosce questo rapporto e cerca di descriverlo lo cerca di descrivere in termini che possono essere più o meno chiari e qui c'è il ruolo importante dell'annotatore no? del perché come vi ho detto il processo di popolamento dell'ontologia quindi di annotazione del testo è un processo che implica un notevole intervento umano no? perché naturalmente si tratta nelle pieghe del commento di riconoscere qual è il rapporto che il commentatore riconosce fra i due testi e per esempio il passo dantesco può richiamare una fonte per contraddirla per offrire una diciamo diversa interpretazione di un determinato elemento quindi fornirne una palinodia oppure il passo dantesco può citare una fonte per rielavorarla ampliarla in qualche modo anche distorcerla o infine può citare questa fonte per confermarla per rafforzarla e quindi istituire un rapporto di sostanziale omologia ecco che l'annotatore il collaboratore il ricercatore il ricercatore hdn dovrà interpretare questi dati nei vari commenti e procedere quindi alla analisi e al popolamento dell'ontologia interpretando e inserendo i dati secondo questa mappatura semantica secondo le triple che vi ho cercato di spiegare l'ontologia hdn ovviamente non nasce da nulla ma si basa su repertori di riferimento che sono ampiamente usati nella ricerca umanistica come per esempio il sidoc crm che è lo standard per la descrizione del patrimonio culturale dei beni culturali di vario tipo artistico bibliografico eccetera nel caso della descrizione di risorse bibliografiche abbiamo un'estensione del sidoc che è frbr eh questi sono repertori sono grandi banche dati ne abbiamo anche in Italia per esempio il mag utilizzato dal metadati di archiviazione e gestione utilizzato dall'IQ istituto per il catalogo unico molti conoscono quindi non è una novità avere dei grandi repertori di metadati che permettono appunto di etichettare eh le risorse del patrimonio culturale ma nel nostro caso naturalmente eh queste categorie sono state adattate integrate sono state munite di ulteriori classi e proprietà per esprimere in modo più adeguato possibile la concettualizzazione che abbiamo detto eh della eh appunto eh mappatura delle fonti nella commedia dantesca eh le annotatrici e gli annotatori quindi popolano questa ontologia attraverso eh queste categorie di partenza e eh inseriscono i dati attraverso un tool appositamente elaborato da listi cnr cnr appunto e ospitap l'infrastruttura di for science nel virtual research environment che eh abbiamo eh sviluppato appositamente qui vedete uno screenshot di come è fatto questo tool no abbiamo ovviamente una serie di campi fissi il frammento dantesco eh di cui si parla naturalmente eh il eh corpo della nota quindi il eh frammento eh del commento in cui si spiega si esplicita eh eh quello che va eh tenuto presente della terzina dantesca quello che è il mh particolare mh segmento di testo oggetto di spiegazione eccetera 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 c'è un campo libero anche che permette all'annotatore di raccogliere dei commenti per casi di particolare eh problematicità che naturalmente non si prestano a rientrare in modo diretto in modo eh assolutamente automatico nelle categorie che vi ho cercato di spiegare eh ecco adesso allora cosa ci aspettiamo da hdn cosa ci aspettiamo dalla eh biblioteca digitale che stiamo eh popolando sviluppando in questi mesi beh naturalmente ci aspettiamo che questa base di conoscenza non sia solo eh diciamo accessibile con i mezzi tradizionali ma sia come dicevamo interrogabile tramite gli standard del semantic web in particolare un'interfaccia intuitiva semplice user friendly che permetterà all'utente ricerche complesse tramite i linguaggi di interrogazione automatica a cui facevo riferimento prima quindi Sparkle per esempio e che eh permetterà di ottenere in output delle tabelle dei grafi rdf dei file eh excel csv vuol dire comma separated values che sono sostanzialmente dei file excel che permettono naturalmente di visualizzare in modo semplice questi dati e di riutilizzarli in vari modi l'utente potrà quindi chiedere alla biblioteca virtuale hdn di visualizzare per esempio tutti gli episodi che dante deriva dalla bibbia dai vari libri naturalmente tutti i brani in cui eh dante riprende una teoria di tommaso d'aquino come dicevamo prima tutte le volte in cui dante fa palinodia di se stesso e sappiamo che succede diverse volte pensiamo al caso che citavo prima delle macchie lunari che vengono appunto trattate eh tanto nella quest o quanto nel poema oppure tutti i personaggi di origine ovidiana per esempio tutti i personaggi delle metamorfose e via dicendo l'utente può eh formulare domande complesse ricevere risposte articolate eh senza alcun rumore di sottofondo e con degli standard di visualizzazione che permettono il riutilizzo e eh diciamo la eh interoperabilità ecco dei risultati lo standard da cui ci siamo ispirati è come anche Dante Sosius è lo standard FAIR FAIR in inglese vuol dire corretto leale ma è anche un acronimo che vuol dire findable cioè i dati sono facili da trovare accessible accessibili interoperable eh e researchable quindi hanno diciamo una serie di caratteristiche che li rendono particolarmente eh facili da ottenere e riutilizzabili eh appunto eh scusate detto researchable ovviamente reusable che è naturalmente quello che vi ho appena finito di dire e quindi questo naturalmente ha anche implicazioni sulla sostenibilità del progetto sulla durevolezza del progetto sull'affidabilità dei relativi risultati la base di conoscenza hdn sarà ospitata all'interno di quello che ormai chiamiamo Dante Network che riunisce progetti già eh ampiamente noti e funzionanti come Dante Sources più volte citate il Dante Search che eh prende di mira nel Dante latino e nel Dante volgare le categorie grammaticali in alcuni casi anche sintattiche permettendo di ricercare le varie categorie e il Dama Dante Mediogo Archive che invece cerca appunto di eh inserire le opere eh soprattutto latine di Dante nel loro contesto eh intertestuale interdiscursivo medievale eh così si presenta la home page del Dante Network in cui vedete eh hdn che ancora non rinvia un sito ovviamente pienamente sviluppato ma comunque si affianca alle altre risorse di cui ho parlato appunto finora grazie a tutti in Grazie a tutti.